super difficile siamo quasi raggiunti a livello 100 cosa incredibile oggi 2 gennaio siamo a gennaio ormai attenzione prestate attenzione perché sapete perché strano brutto che si fa no attenzione poi ecco ho il catarro ma freddore di denaro in influenza pericolo no molto difficile molto difficile bene no 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 ecco l'ho detto ve l'ho detto se si perde il pino d'oro attenzione al catarro si vanno pericolo c'è un pericolo no oh via forza no no ci siamo fatto niente problema passate la paura quasi considero eh fammi la reo con cosa si parla di cosa si parla di cosa si parla di cosa si parla attenzione non so non so cosa succede cosa accadrà ciò mi stai da risolvere mi stai si risolvono parlare bene 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 molto bene 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Via! Ci siamo! Questo è il livello 99. Questo? 100! Mi dicevo iscritti col tempo. Qua, proviamo. Può succedere di tutto. Cosa succede? Cosa succederà? Qua... Una prova. Una prova. Aiuto. No. dobbiamo quasi 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 no quasi il suo potenziamento mi dispiace l'energia l'energia di Wilmore è quasi a zero vendetta l'energia scusa scusa l'energia ma Non è sconfitto il Wilbur Impossibile Tu dicevi è molto difficile questo livello Nell'altro Tu dicevi Tu dicevi per un livello È molto difficile